In camminandoci per le vie di Formia, arriviamo nel quartiere di Castellone. Sorto su un'antica arce romana, rinasce grazie alle opere di ampliamento e di fortificazioni del XIV secolo. Ancora oggi, passeggiando per i suoi vicoli, il borgo regala scene di vita e di sapori ormai dimenticate. Tra le antiche abitazioni si distingue il bel palazzo dal delicato color celeste, sede dell'antico comune di Castellone. Rimanendo nell'area del quartiere di Castellone, arriviamo nella piazza di Sant'Erasmo, luogo di incontro dei suoi abitanti. Qui si erge la torre ottagonale, che con i suoi 24 metri di altezza, era la più alta delle 12 torri che cingevano le mura dell'antica cittadella.